Amen. Buonasera a tutti. È iniziata la traduzione simultanea in italiano sulla frequenza 99.7. Ringraziamo coloro i quali rendono possibile questo servizio di traduzione con il proprio contributo. Siete pregati di abbassare il volume delle vostre radioline in modo che la nostra traduzione, traduzione in italiano, non disturbi altri fedeli, fedeli delle altre lingue presenti alla Messa. Grazie. 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 Svome sinu preponući, Vajto mira goji za nas. Sialodato Gesù Cristo, cari parochiani, cari pellegrini, poštovani, mnogopoštovani Oce Provinciale, e gređio Padre Provinciale, cari studenti, membri dell'Associazione Padre Slavko Barbaric, vi saluto tutti cordialmente e auguro Buon Natale e Feste Natalizie a tutti voi. La celebrazione eucaristica stasera sarà presieduta dal Padre Provinciale della nostra provincia, Padre Ivan Sessar. Cari studenti stipendisti dell'Associazione Padre Slavko, si dice che la conoscenza, la sapienza è il potere, quindi la ricchezza e il denaro non è potenza, ma la vostra conoscenza. Aiutate la vita, fate il progresso nella tecnica. Tutti ameriamo oggi la tecnica di Internet, dei computer, e dimentichiamo che Internet e tutti i programmi abbiamo dimenticato che tutti questi programmi e il programma Google soprattutto è stato creato dagli studenti. Non avevano spazi adeguati e i garage hanno cambiato la tecnologia del mondo. Anche i cellulari sono nati nei garage. Cosa si chiede da voi, studenti? Acquisto di conoscenza, di sapienza, perché questo è il potere che cambia il mondo. E dietro tutto questo sta Dio che vi ispira e vi dona la possibilità di scoprire mondi nuovi. Da voi studenti desideriamo che usate il denaro e il tempo con responsabilità e altrettanto doni di Dio perché diventate la benedizione per voi stessi, il vostro popolo e la vostra Chiesa. E questo sarà l'investimento migliore. Ricordiamoci di una cosa sola. Nel tempo di Gesù, tutti i giovani nel tempo di Gesù andavano a scuola da i cinque anni fino ai tredici anni. Imparavano a scrivere e a leggere. Non avevano le comodità come noi, ma imparavano la legge di Dio a memoria, così anche i salmi, loro preghiere. E finora hanno prodotto i geni più grandi, coloro che hanno vinto il premio di Nobel, quel popolo piccolo. e noi, croati, siamo un piccolo popolo. Impariamo da loro. Padre provinciale, inizi la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, cari pellegrini, cari ascoltatori della radio, ogni Santa Messa, ringraziamento a Dio perché Lui si è incarnato, si è fatto uomo. Stasera, mentre ringraziamo Dio per la Sua presenza nel pane e nel vino qui tra di noi, ringraziamo Dio per un progetto nobile che dura ormai da vent'anni, come ha detto il nostro paroco. È l'associazione nobile Padreslauco Barbaric che ormai da vent'anni aiuta studenti bravi e poveri. Ringraziamo Dio stasera per il suo fondatore e preghiamo per il riposo della sua anima. Ringraziamo Dio per tutti i membri defunti e preghiamo per loro anime. Ringraziamo il Signore per tutti i benefattori, per tutte quelle persone che in questi vent'anni hanno riconosciuto questo progetto nobile e l'hanno sempre aiutato per poterlo fare all'inizio di questa Santa Messa riconosciamo davanti al nostro Signore i nostri peccati e pentiamoci sinceramente per tutti i nostri peccati, omissioni e debolezze. Confesso a Dio Onipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli Angeli e i Santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Chirie Grazie a tutti. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. 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 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Dio, vera luce, hai rischiarato le nostre tenebre. Guarda con bontà questa tua famiglia, perché possa celebrare con l'ode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, figlioli miei, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice, lo conosco, e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo, e in Lui non c'è la verità. Chi invece osserva la Sua parola, in Lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in Lui. Chi dice di rimanere in Lui, deve anche Egli comportarsi come Lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero. In Lui è in voi, perché le tenebre stanno diradandosi, e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce, odia Suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama Suo fratello, rimane nella luce, e non vi è in Lui occasione di inciampo. Ma chi odia Suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, e non sa dove va, perché le tenebre hanno acceccato i Suoi occhi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Parola di Dio. Parola di Dio. a lui abbia l'escrizione di lui e la svetla di lui. Piemonte, Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Piemonte, Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Piemonte, Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Piemonte, Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Piemonte, Gospodino, un'escrizione di un'escrizione. Luce per rivelarti alla gente e gloria del tuo popolo Israele. Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Gospodino, un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione di un'escrizione. Gospodino, un'escrizione di un'escrizione. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Gospodino, un'escrizione di un'escrizione. Gospodino, un'escrizione. Gospodino, un'escrizione. Grazie a tutti. 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 Lui con la sua incarnazione ci porta la notizia che ciascuno di noi è il Figlio di Dio e che ciascuno di noi è il Figlio di Dio e che ciascuno di noi è il Figlio di Dio. è chiamato a trasformare questo mondo perché questo mondo diventi il luogo per una vita degna di ogni uomo, senza eccezione. Proprio per questo Natale era sempre la festa della pace, della speranza, della presenza e della bontà di Dio, la festa dell'unione tra Dio e l'uomo e tra gli uomini. Il Figlio di Dio, Gesù, nascendo come uomo, desidera farci capire che l'uomo è una creatura speciale di Dio, persona che Dio ama, persona al centro del mondo e del tempo, persona ragionevole, libera, responsabile, capace per la solidarietà e l'amore. Il Natale ci dice che l'uomo non è una cellula passeggera dell'universo, prodotto dall'evoluzione, un singolo più o meno efficace, cercando i piaceri, e creato per la morte. Perciò Natale è la festa della dignità umana e dei suoi diritti veri e autentici fondati in Dio e confermati con la nascita di Cristo. tra tutti i valori l'uomo dopo Dio è il più grande, il valore più grande. Dio non si può comprendere senza uomo e l'uomo senza Dio non può esistere nemmeno valorizzare. tutti e due i valori sono fondamenti della società umana, della cultura, dell'ordine e la garanzia del progresso. Questi due valori erano valorizzati in vari modi durante la storia. la particolarità della civiltà moderna è che proprio nel nome dell'uomo, della sua cultura, del suo progresso, questi valori sono messi in questione. Con questo, fratelli e sorelle, con questo comincia a tremare il mondo intero e l'umanità con tutte le sue istituzioni e progressi è arrivata a una crisi pericolosa che minaccia non soltanto l'ordine e il progresso ma addirittura l'esistenza. Dio dà il valore all'uomo e con la sua creazione alla sua immagine e con la sua incarnazione in Gesù Cristo. Così, cari fedeli, Cristo è in misura del valore umano, del suo onore e dei suoi diritti. questo dimostra che l'uomo è legato secondo la propria natura a Dio e così diventa più grande di se stesso. Staccandosi da Dio l'uomo diventa un'immagine storta che si rivolge verso l'uomo stesso. Il valore umano si conferma secondo l'analisi l'uomo è un essere inquieto mai soddisfatto con ciò che ha raggiunto ma sempre rivolto verso il futuro verso l'infinito. Questo dice che l'essere dell'uomo non è terminato. l'esistenza dell'uomo si distende su ciò che sarà è rivolto sempre verso i valori più alti e valori migliori. I desideri umani non compiuti assieme con il sentimento di miseria insoddisfazione pianto inquietudine ci fanno capire che essere l'uomo significa diventare l'uomo. Cari fedeli la natura umana porta con sé i diritti umani che non si possono annulare cioè essere realizzato completamente l'uomo che potrà sviluppare i propri talenti perché la nostra vita sia di vantaggio per gli altri perché ogni uomo è un dono nessuno vive sulla terra da solo a ciascuno di noi sono stati affidati i talenti per costruirli per poter servire con essi agli altri a nessuno è affidato il talento a causa di lui stesso ma sempre per gli altri cari fratelli e sorelle immaginiamo Dio ci preservi da questo che nessuno sviluppi nessun talento sulla terra ci sarebbe una totale miseria e il mondo avrebbe avuto la propria fine da tanto tempo dobbiamo essere coraggiosi e siamo coraggiosi immaginiamo come sarebbe il nostro mondo se ogni uomo avesse sviluppato i suoi talenti senz'altro questo sarebbe già il paradiso sulla terra cari fratelli e sorelle di questi fatti era molto cosciente defunto padre Slavko Barbaric il quale vent'anni fa con i suoi amici e collaboratori e con i pellegrini di Međugorje amici di Međugorje ha fondato l'associazione allora intitolata Fondazione Amici di Talenti per aiutare studenti con grandi talenti ma poveri in un'occasione padre Slavko scrisse come fondatore di questa fondazione desidero che questa fondazione si sviluppi e cresca che serva al bene dei nostri giovani e a tutti noi in modo particolare desidero che smettiamo criticare e giudicare e cominciamo ad operare in modo positivo noi non dobbiamo dimenticare i giovani giovani con tanti talenti e se abbiamo paura per il nostro presente e per il nostro futuro perché molti giovani sono vittime di immoralità di droga dei piaceri facili progressi facili non dobbiamo dimenticare coloro che lavorano lavorano con fatica costruendo se stessi negli uomini capaci per poter assumere nel futuro impegni nella società e nella chiesa tanti tra noi fratelli e sorelle hanno più tempo per giudicare che per aiutare il defunto padre Slauco allora diceva spesso se il vento ha spaccato 999 fiori non dobbiamo dimenticare quell'ultimo millesimo che non è spaccato e ripeteva un proverbio cinese è meglio accendere una luce che continuamente lamentarsi della tenebra padre Slauco conclude le sue riflessioni con le seguenti parole il mio desiderio ardente è che tanti più possibili si organizzano per aiutare questa fondazione per aiutare a sviluppare i talenti che Dio ha donato ai nostri giovani cari fratelli e sorelle mentre preghiamo per il riposo dell'anima di padre Slauco e per le anime dei defunti benefattori di questa fondazione prendiamo sul serio le sue parole e cerchiamo di farle vive con un amore caritatevole Dio benedica tutti uomini di buona volontà che negli ultimi vent'anni hanno investito in questo progetto nobile e il Signore nella sua bontà li ricompensi centuplo preghiamo per tutti coloro ai quali questa fondazione ha aiutato sviluppare i talenti durante il loro studio la loro vita sia per la maggior gloria di Dio e per il bene del fratello in Cristo Amen Adesso cari fedeli credendo nell'amore di Dio rivolgiamo a Lui le nostre preghiere fa Signore che il Tuo Figlio Gesù Cristo sia ogni uomo la consolazione divina preghiamo ascoltaci o Signore fa Signore che tutti gli uomini ti benedicano per il Salvatore che ci hai mandato preghiamo ascoltaci o Signore fa Signore che tutti gli uomini ti conoscano e ti accettino per mezzo di Gesù e il Suo Vangelo preghiamo ascoltaci o Signore fa Signore che tutti viviamo i Tuoi comandamenti nell'amore preghiamo ascoltaci o Signore fa Signore che i nostri defunti si rallegrino contemplando il Tuo volto preghiamo ascoltaci o Signore Dio buono e misericordioso per intercessione della Beata Vergine Maria Regina della Pace ascolta e saudisci le nostre preghiere che ti rivolgiamo questa sera questo ti preghiamo per Cristo nostro Signore Amen Amen Grazie a tutti. 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 Scambiate a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. la liturgia. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. benedica. a tutti. 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 a tutti.